Un sistema tecnologico di rilevamento delle infrazioni semaforiche per migliorare la sicurezza stradale. Ok della Giunta Comunale di Firenze al progetto dell'assessora ai lavori pubblici Elisabetta Meucci. Il nuovo sistema sarà in grado di rilevare tutte le infrazioni indipendentemente dalla direzione e velocità del veicolo, considerando anche le svolte, i cambi di corsia, il viaggiare a cavallo di due corsie. Il progetto, con un investimento di 120.000 euro, prevede postazioni alle intersezioni di via Piagentina, via Doni, via Le Matteotti, via Le Guidoni, via Dalla Chiesa. Il nuovo sistema non utilizzerà spire o sonde. Le telecamere usate saranno di tipo Full HD HD ad alta qualità video e garantiranno riprese ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione.